Allora, con Jeffrey Di Bartolomeo ci colleghiamo per lanciare una novità in anteprima assoluta che andrà in onda su Fanotv questa sera e domani sera, in esclusiva mondiale, possiamo dire. Di cosa si tratta, Jeffrey? Intanto benvenuto. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, si tratta, cerchiamo insomma di stare in allenamento anche in questi periodi. E' il San Costanzio Show House, ci siamo collegati da casa noi tutti nel San Costanzio Show per cercare di fare un po' di prove. Poi ci è venuto in mente che potevamo anche registrarle, sono i nostri personaggi, sono dei blocchi da 15 minuti circa, 15-20 minuti. Intrattenimento da casa diciamo, ci adeguiamo ai tempi. Quindi abbiamo una sorta di mosaico con tante finestrelle dove ogni finestrella corrisponde ad un personaggio dei vostri insomma. Sì, ci sono tutti i personaggi del San Costanzio Show, da Orietta Pedotti che sarà in coda per questa puntata, e poi dopo c'è La Rosa, Santinelli, Bertulli che farà delle lezioni, Oscar, Romina, insomma tutto il San Costanzio Show completo. Della prima puntata andrà in onda questa sera dopo le 21.30, dopo il rosario delle 21.00 da Loreto, che tra l'altro è seguitissimo, quindi avremo un momento diciamo di spiritualità, poi un momento di leggerezza dove un attimino sicuramente faremo due risate perché di questi tempi c'è del primo episodio. Bene, bene, fa molto piacere e poi volevo anche ricordare che tutte le puntate che in questi anni abbiamo fatto su Faro TV, noi ogni giorno ne mettiamo una su Facebook e poi sui social ci potete seguire con le vecchie trasmissioni ad altro. Santinelli ci ha iscritto dappertutto, siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, su come si chiamano tutti, Twitter, dappertutto. Va bene, grazie Jeffrey, allora ci vediamo stasera. Grazie a te Marco, ciao a tutti, a presto, ciao ciao ciao, state bene!